Una cortesia, una domanda che nessuno ha avuto ancora il coraggio, che però tutti si chiedono. Gli 8.000 metri quadrati di Farinetti presi senza appalto, una giustificazione in due secondi, però senza fare un discorso lungo? La giustificazione della stazione appaltante era l'unicità dell'attività svolta da Farinetti. È un sitato di un appalto che noi abbiamo dato prima, è stato dato prima che noi fossimo arrivati. Quindi è regolare? No, noi abbiamo fatto dei rilievi per capire una serie di cose, un rilievo esposto, perché l'appalto è stato dato prima del nostro arrivo. Prosegui, buon lavoro a me.